Quando fate il Gran Batman, oltre a lavorare la gamba che esce, dovete lavorare la gamba di terra. E come lo fate? Rimanendo veramente bene in linea, anca, tallone, mi raccomando, devono essere una linea sola, e spingendo bene verso il pavimento e non fatevi trasportare dalla gamba che esce. Se io sono qua, vado e-ia-pa-e-ta, e-ia-pa-e-ta. Ora, arrivando su questa gamba, non faccio questo, ora vi sto rilaggirando, questo che poi casco. Devo rimanere sulla gamba di terra perché questo poi mi darà la forza per andare in centro. Quindi vi piazzate, quello che dovete sentire non è la gamba che esce, è la gamba dietro, bene il gluteo, senza incastarvi per ottenuto, e mantenete questa, diciamo, tensione, respirando chiaramente, mai contraendo. Per tutta la curata dell'esercizio, ta-ta-ta e sento la gamba dietro, ya-pa-e-setto la gamba dietro. Avrete un sacco di forza, provate e fatemi sapere come va, ciao!